... Guarda, mi somiglia, illusi, lui tanto la guarda, ma anche lui non è più grande, avrà gli stessi 13-14 anni, il migherlino, pisellino, piccolino, che sta lì, che vorrebbe esprimersi, vorrebbe dire, aspettiamo la prima media, forse la seconda media, la terza media succederà, ma non è sempre detto, ci sono degli amorini che prima di manifestarsi, ci vuole molto tempo e molta pazienza, voi ne avrete sicuramente, difendeteli e quando li incontrate, prendeteli in cura di loro, perché se ci saranno domani, ci sarò qualche vento. Bravo! Oh no, mi ha cioccolato. Seduta qui, vicino a me, ed una sigaretta a piedi, è un'altra. ... 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